Il comune di Pordenone continua a investire sulla sistemazione delle scuole di proprie competenze, cioè asili elementari e medie. I lavori più recenti riguardano la Diamicis di Borgo Meduna, la Gabelli in centro storico e la Lozzer a Torre. A illustrare gli interventi è il sindaco Alessandro Ciriani. In particolare la Diamicis era da molto tempo che attendeva un restyling, l'abbiamo fatto credo con anche un effetto estetico particolarmente piacevole, oltre ad aver sistemato i seramenti e gli intonaci. Tra l'altro abbiamo previsto anche un secondo lotto per la palestra. Per quanto riguarda le Gabelli sono stati lavori estremamente complicati perché si è trattato di fare un intervento di sicurezza sismica, quindi un edificio bello, storico, importante ma comunque fragile è stato consolidato in modo tale a poter resistere a quello che speriamo non succeda mai, cioè un terremoto. Tra l'altro c'è anche la palestrina della Lozzer. Sì, molti si chiedono cosa sia quel prefabbricato che è stato posizionato tra la Beato Dorico e la Lozzer. Allora è una palestrina che servirà questa estate o comunque nel prossimo anno scolastico per ospitare i ragazzi quando dovremo demolire la vecchia palestra per iniziare a costruire la nuova Lozzer. Quindi siamo il via, nel senso che abbiamo recuperato i 10 milioni di euro per la progettazione e l'esecuzione. Montiamo adesso, visto che abbiamo recuperato i finanziamenti alla Palestrina, da quest'estate il via ad un'opera tanto attesa con la nuova scuola di Torre. Non solo scuole, il Comune infatti ha avviato da tempo una campagna di sistemazione di tutti gli edifici pubblici. È stata sempre grande attenzione di questa amministrazione per quanto riguarda le scuole. Dobbiamo sempre ammettere e certificare che il patrimonio comunale è stato totalmente abbandonato. Io dalle scuole, agli impianti sportivi, ma anche ai musei, sapete quanti lavori abbiamo fatto con l'amministrazione Ciriani. Dunque abbiamo una pianificazione che non ci lascia fermi neanche un attimo, ma con il sindaco che ci preme e ci stimola per accentuare sempre più le attenzioni, noi stiamo agendo sia sulle strutture scolastiche, sulle strutture sportive, ma anche sulle strutture del patrimonio comunale.